La Giunta Comunale di Capaccio Pestum, al fine di avviare l'iniziativa Casa dell'Acqua per disincentivare l'abbandono della plastica useggetta, ha avviato un secondo iter amministrativo procedurale mediante la concessione di un'area pubblica a soggetto privato che ne faccia richiesta e constipula di apposita convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il Comune, individuando l'operatore economico mediante avviso pubblico che garantisca la partecipazione di tutte le ditte in possesso di donna iscrizione al CCIAA per l'esercizio della concessione in oggetto, stabilendo la durata di sei anni con possibilità di proroga di ulteriori sei anni. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quella di sensibilizzare i cittadini ad una efficiente gestione della risorsa acqua e della promozione dei comportamenti ecologicamente sostenibili, in linea con le attuali politiche ambientali ed energetiche, di risparmio e riduzione dei rifiuti, nonché per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini. L'iniziativa prevede l'installazione di distributori automatici di acqua potabile a chilometro zero, liscia e gassata, opportunatamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza a costi bassissimi, anche nell'ottica che tale progetto assume anche la valenza di un percorso educativo sotto il profilo ecologico, diffondendo sul proprio territorio la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale e delle acque, salvaguardando l'ambiente, in quanto i cittadini potranno riutilizzare i contenitori dell'acqua così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie. Le zone individuate per l'installazione delle case dell'acqua sono località Capaccio Scalo, località Licinella, località Capodifiume. L'amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Alfieri, si riserva di valutare inoltre in corso d'opera la possibilità di installare ulteriori casette dell'acqua su altre zone del territorio comunale.